E' un fatto inedito, sono i parlamentari che voteranno in modo diverso, chi come me voterà 4 sì, chi voterà no, ma tutti uniti da un dato. Primo, è necessario partecipare al voto referendario, secondo, è necessario che tutte le televisioni diano ampio spazio, i cittadini hanno diritto di conoscere per poter votare, per questo abbiamo chiesto all'autorità di garanzia di non aspettare l'ultima ora, ma di consentire di oggi ai cittadini di esercitare un loro diritto, sapere per poter decidere, non è possibile risolvere il referendum con un broglio politico o peggio con un broglio mediatico. Io penso che il quorum ci sarà, perché c'è un grande entusiasmo, le persone vogliono decidere sul loro diritto alla vita, sull'ambiente, sulla salute, sulla legalità, se le persone saranno informate questo referendum sicuramente centrerà il quorum, perché per usare un gioco di parole è nel cuore di milioni di italiani, non di una parte politica, di ogni parte politica.